Rullo di tamburi, luci sullo stage, bicchieri in alto, delirio è arrivato. Tommaso Aprea, travolgente, ricco di vitalità, bartender di professione, giudica il bere miscelato una cultura. Sogna di aprire un nightclub dove regnerebbero le note frenetiche del jazz. Inizia a scrivere testi aiutato dal padre ed inizia da poco collaborazioni sporadiche con musicisti caprisi. La svolta è nel 2007, quando fa del rap il suo sogno musicale, creando insieme Alibi e DJ Rabish il gruppo dei Senza Limite e poi la SLQ, un collettivo di rapper caprisi. Secondo i loro calcoli, il loro CD sarà disponibile per il 2009. Ama scherzare ed essere giusto e leale, insomma. Sarò il vostro intrattenitore se mi amerete, il vostro incubo se mi odierete.